Prime pietre d'inciampo a Monza per ricordare marito e moglie vittime dell'olocausto. Maria Rosa Monaco. Il sentimento è di grande commozione. Aveva tre anni Alberto quando i suoi nonni, Alessandro Colombo e Ilda Zamorani, furono portati via da Monza, destinazione il campo di sterminio di Auschwitz. Da oggi due pietre d'inciampo li ricordano lungo la via in cui sorgeva la loro abitazione. Sono un po' il surrogato di una tomba, un ricordo fisso dei nostri nonni dove poter andare ogni volta che ci viene il magone. A posarle questa mattina Günther Demning, l'artista tedesco che le ha realizzate nel suo laboratorio in Germania, come le altre 70.000 che dal 1996 riempiono le strade d'Europa, tessere di un grande mosaico della memoria. Dopo la cerimonia di stamane a Monza seguiranno altre 16 in altrettanti comuni della provincia di Monza e Brianza, dove è nato uno specifico comitato per le pietre d'inciampo. L'importanza del comitato è che racchiuda al suo interno non solamente le amministrazioni comunali, ma le associazioni, gli istituti scolastici e i singoli cittadini, che tutti insieme ricordano. 21 le pietre che saranno posate in Monza e Brianza fino al prossimo 1 febbraio.